Benvenuti in Ciaxi Gallery Tutte le epoche dell'arte, una sola galleria Solo a Ciaxi Gallery, solo per voi Il mercato dell'arte contemporanea, un mondo molto particolare Su cui è difficile scoprire le nuove novità Anche perché nell'arte internazionale non sempre si possono conoscere Tutti gli artisti di tendenza e quelli che stanno facendo cifre importanti Quindi con questo approfondimento Io, Mirko Gambaro e la Galleria Ciaxi Ti diamo un consiglio e parliamo adesso di un grandissimo artista contemporaneo Che è Carl Lagasse Per rimanere sempre aggiornati con i nostri approfondimenti di arte antica e contemporanea Clicca sulla campanella di YouTube E seguici su tutti i nostri social Facebook, Twitch, Instagram Così da essere sempre aggiornati Carl Lagasse, pittore, scultore, artista tutto tondo Soprattutto adesso con gli NFT, con la criptoarte Nasce a Parigi nel 1981 E da subito, in tenera età Esprime un grandissimo talento Pensate che quando ha sette anni Già realizza la sua prima mostra in pratica Le sue prime opere di collage Poi conosce vari artisti Crescendo ovviamente, diventando adolescente Conosce vari artisti della scena street Della Francia Che lo indirizzano appunto sul mondo dei graffiti Sul mondo delle tag Le tag sono le scritte Quelle là con... Che gli artisti di strada lasciano il proprio nome Scritto sui muri della città I tag Continua questa sua esperienza Però non lascia mai i collage E proprio poi l'incontro con l'artista Vasari Lee Che gli dà un input molto importante Quello di non abbandonare i collage E di mettere nella sua arte Le esperienze che ha fatto nella street art Quindi abbiamo poi un'esperienza molto interessante Pensiate che nel 2009 ArtPrize, il grande sito di valutazione economica dell'arte Lo annovera tra i primi 30 artisti Anzi tra i primi 10 artisti under 30 Più interessanti della scena internazionale Attualmente le quotazioni delle opere di Karl Lagasse Sono altissime Si possono vedere Sono aggiudicazioni pubbliche Oppure basta andare sui siti Delle varie gallerie più importanti del mondo Quelli che trattano le opere di Karl Lagasse Ci sono opere che arrivano a 100.000 200.000 300.000 euro Opere d'arte pittorica E opere d'arte scultoria Infatti dopo l'esperienza L'esperienza della street art Si dedicherà alle sculture E diventerà famoso Ecco, diventerà famoso Con le sue opere scultorie One dollar Sono queste sculture appunto Dalla Dalla pill Molto pop Potremmo dire Infatti A me personalmente Ricorda un po' Quello che è il concetto Della pop art Di Warhol E in questo caso Vediamo Entriamo in questa opera E iniziamo a vedere Qual è il tipo di arte Di Karl Lagasse Ci sono sicuramente In quest'opera Che abbiamo in galleria Dei richiami Alla street art Allo stencil Che si vede per esempio Anche nelle opere di Banksy Stiamo parlando Ripeto Di un artista Molto Molto Cotato E Il nostro lavoro Di galleria È anche quello Di presentare Delle proposte Che magari Nel mercato italiano Sono meno conosciute Però L'arte contemporanea Sicuramente Più Di altri Oggetti D'arte Ha un mercato Molto globale Molto globale E Difficilmente I prezzi Cambiano da paese In paese Come può succedere Per l'antiquariato Per esempio Se un oggetto Non so Un argento Bello In Italia Ha un costo Si potrebbe trovare Al doppio In Francia Al triplo In Inghilterra E al quintuplo Negli Stati Uniti O viceversa Invece Per quanto riguarda L'arte contemporanea Ha un valore Più o meno Stabile In tutto il mondo Quindi Quando una galleria Propone Degli artisti Degli artisti Importanti Con Ovviamente Un mercato Ben chiaro Per il collezionista Che è dall'altra parte La cosa potrebbe essere Molto Molto Interessante Insomma La cosa importante Nelle Per quanto riguarda Carla Gas Oltre a essere Un pittore Che Come dicevo È riconosciuto A livello Internazionale Ha avuto Dei grandi Grandi Mentori Tra cui Vasarely Ha ricevuto Numerosi premi Pensate Che Ha realizzato Delle sculture Che rappresentassero Il Festival di Cannes Il Festival di Deauville In Francia Per quanto riguarda Le competizioni Delle corse Di cavalli Oppure Ha realizzato Delle opere Con le Maserati Proprio per la Maserati Quindi Anche delle opere Che avessero Una funzione Come Pubblicitaria Insomma E stiamo parlando Di un artista Europeo Che ha una rilevanza Internazionale Basti pensare Che tra I suoi collezionisti Ci sono diverse Star di Hollywood Infatti Ci sono diverse Foto Su internet In cui Carla Gas È raffigurato Anzi È ritratto Con diversi attori Una tra tutti Mi ricordo Samuel Jackson Mentre Regala Oppure comunque Queste star Comprano Hanno in casa Le opere Di Carla Gas È proprio Uno di quei nomi Che dal 2009 Circola Costantemente Nel mercato Internazionale Artista Giovane Perché 1981 Comunque Stiamo parlando Di un artista Giovane Però Sicuramente Sicuramente Molto Stabile Molto Presente Sul mercato Internazionale Dal punto di vista Economico Ma anche dal punto di vista Della sostanza Perché sta facendo Un lavoro Molto interessante Anche sulla Crypto Art E gli NFT Che sono il presente Il futuro Delle opere d'arte Infatti Sui suoi certificati Di autenticità Fa sempre presente Che è possibile Acquistare anche L'arte digitale La sua arte digitale Insomma È un artista Del presente È molto All'avanguardia All'avanguardia Perché utilizza Comunque Un tipo Di comunicazione Che è quella Della street art Che ormai Dagli anni Ottanta Se non prima Che ha avuto Sempre più Impatto Sempre più successo Partendo dal Più importante Kit Haring Per arrivare Al nostro Contemporaneo Banksy Passando per i grandi Da Obey Piuttosto che L'italiano Blue E tantissimi altri Artisti Cosiddetti Graffitari Lui utilizza Questo Linguaggio Questa comunicazione Dell'arte di strada Mettendola Su tela Per quanto riguarda Le opere pittoriche Perché come Accendevo anche prima Nella scultura Fa un discorso diverso Utilizza il linguaggio Forse più che altro Della pop art Insomma La riproduzione Seriale Di qualcosa Di popolare Come L'unico dollar One dollar Invece qui Oltre la La street art Quindi proprio La pennellata Che utilizza Che si utilizza In strada Utilizza poi Lo stencil E altri medium Per dare dei veri E propri messaggi Espliciti In questo caso Il messaggio È un messaggio D'amore Infatti In tante sue opere Il messaggio ricorrente È quello di amore E pace E qui nella sua Lingua madre Mette appunto Je t'aime Ti amo Ma ce ne sono Tanti altri Che riguardano Questi Questi temi Su tele Che possono Misurare come Questi a 50 Per 40 Centimetri Più grandi Più piccole Come Un altro tema Love you forever Oppure Messaggi che riguardano Più la spiritualità Come Belong to the Lord E altri Tanti altri Quindi vediamo Un artista Contemporaneo Attento alla comunicazione Attento All'aspetto Anche del mercato In quanto Non lascia Da parte Quello che sono Le nuove Tendenze Economiche Dell'arte Ripeto NFT E criptoarte E probabilmente Accetterà anche I pagamenti In criptovalute Probabilmente In ogni caso Qui Noi Il nostro Dovere Di comunicare Quello che è La tendenza Artistica Ed economica Dell'arte Contemporanea Lo facciamo In galleria Abbiamo Questa bellissima Tela Che ripeto Prende Spunto Dall'esperienza La street art Di Carl Lagasse E Soprattutto Ce ne sono altre Soprattutto Comunque La galleria Ciaxi Dà la possibilità Di acquisire Opere Di grande Rilevanza Economica A prezzi Molto Interessanti Perché Stiamo cercando Di sondare Quello che è Il terreno L'andamento Dell'arte Contemporanea Internazionale E riproporlo In Italia Affinché Il collezionismo Italiano Possa Giovare Di queste Nuove Tendenze Ecco Quindi Se il video Vi fosse piaciuto Lasciate un mi piace Sul video Appunto In basso Cliccate la campanella Di youtube Per rimanere Sempre connessi Dalla galleria Ciaxi Da Mirko Gambaro Per oggi è tutto Vi aspetto al prossimo Approfondimento Grazie Benvenuti In Caxi Gallery Tutte le epoche Dell'arte In una sola galleria Solo a Caxi Gallery Solo per voi Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage